Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si chiama Urla Silenziose, un'inchiesta che a Catanzaro ha portato all'arresto di nove persone, tra medici e infermieri, in una clinica, la San Vitaliano. La denuncia è partita da una malata di SLA, vediamo. È stata la denuncia di una paziente malata di SLA e paralizzata da cinque anni a far scattare le indagini che oggi hanno portato all'arresto di nove persone, tra medici e infermieri, della clinica San Vitaliano di Catanzaro. L'inchiesta Urla Silenziose è stata coordinata dal sostituto procuratore Stefania Paparazzo assieme al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e all'aggiunto Vincenzo Luberto. Per l'accusa, gli indagati avrebbero esercitato violenze psicologiche sulla donna. Dalle verifiche effettuate dal NISA della squadra mobile, sarebbe emerso che la paziente nel corso dei tre anni passati nella struttura sanitaria avrebbe subito atti i persecutori, a volte aggravati da insulti rabbiosi. Le condotte, secondo quanto emerge dall'inchiesta, venivano perpetrate spegnendole l'audio del comunicatore, spostandole il monitor, immedendo al lettore ottico di intercettare le pupille della stessa. In tal modo la donna veniva privata non solo della sua voce, ma anche della possibilità di leggere, usare internet, telefonare, scrivere mail, rimanendo costretta, inerme, nel letto a fissare la parete. Il reato contestato agli arrestati per i quali sono stati disposti i domiciliari è quello di maltrattamenti con le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti, ovvero per dispetto, per ritorsione, a causa delle continue richieste di assistenza da parte della paziente, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla loro funzione. Grazie a tutti.